Sì, oggi in conferenza stampa avete annunciato le novità che riguardano i parcheggi a Pescara, soprattutto per le riviere, ma anche per i residenti che avranno delle agevolazioni ovviamente per poter parcheggiare le loro auto. Credo che la novità più importante sia questo abbonamento annuale straordinario, agevolato per i cittadini di Pescara, cioè per i residenti a Pescara. Un abbonamento che permetterà di avere il parcheggio a meno di un euro al giorno, cioè 360 euro l'anno, che corrispondono a 30 euro al mese e che corrispondono a meno di un euro al giorno. Un prezzo soltanto per i pescaresi, per tutta la città, cioè chi farà questo abbonamento annuale ripartito in quattro rate, avrà la possibilità di parcheggiare in tutta la città a meno di un euro al giorno, quando fino a oggi pagava invece 54 euro al mese. E questo credo che sia la novità più importante. Noi abbiamo ascoltato i pescaresi, abbiamo visto qual era la necessità. Ovviamente noi abbiamo la necessità di tenere i conti in ordine e quindi abbiamo dovuto trovare degli equilibri, ma questi equilibri sono stati trovati con un'agevolazione dedicata ai pescaresi. Poi abbiamo introdotto per il periodo estivo, soltanto per il periodo estivo, l'abbonamento per la riviera Nord, dalla nave di Cascella fino al confine con Montesilvano e per la riviera Sud dalla Meridiana fino al Teatro d'Annunzio, dove ci sarà la possibilità di parcheggiare a pagamento, anche qui con agevolazioni per i residenti di Pescara, con prezzi a poco meno di 2 euro al giorno. Poi ci sarà un abbonamento settimanale per tutti, anche qui con tariffe aggivolate a poco più di 2 euro al giorno per la zona Nord e meno di 2 euro al giorno per la zona Sud. Poi l'abbonamento orario sarà sempre di 1 euro al giorno, fino a un massimo di 4 o 5 euro. Quindi introduciamo la filosofia del pagamento sulla riviera, perché chi va al mare con la macchina e consuma uno spazio è giusto che paghi perché quei posti non ci sono per 120.000 persone o per 200.000 persone che vanno al mare, ma ci sono per poche persone. Quelle persone che hanno un privilegio è giusto che paghino qualcosa. Credo che funzionerà perché così chi vorrà andare con la macchina pagherà qualcosa e troverà il posto. Poi noi favoriremo la mobilità light, quindi le biciclette, i monopattini, il mezzo pubblico elettrico, perché introdurremo anche una navetta per chi vorrà andare con il bus elettrico sulla riviera. Poi ci saranno comunque sempre i posti lato monte, liberi per i residenti della riviera e gratuito.